E' stata sgominata dalla Guardia di Finanza di Palermo una organizzazione dedita al traffico di cocaina tra la Spagna, Agrigento e Marsala. Otto le persone arrestate, tra queste anche un agrigentino. Gli arresti sono stati eseguiti stamattina dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, se le custodie in carcere due ai domiciliari. Ad emettere il provvedimento il GIP del Tribunale di Palermo al termine di indagini svolte dai finanzieri del GICO sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia nelle persone del Procuratore Capo Francesco Lovoi, del Procuratore Aggiunto Maurizio Scalia e del Sostituto Calogero Ferrara. Le attività investigative sono state eseguite tra il 2014 e il 2015 ed hanno permesso di scoprire una associazione a delinquere con base a Marsala finalizzata al traffico internazionale di cocaina proveniente dalla Spagna che riforniva in particolare la zona del litorale agrigentino e marsalese. A capeggiare l'organizzazione sarebbero stati Pietro Maniscalco, di 58 anni, ritenuto vicino alla criminalità organizzata, e Vito Chirco, di 56 anni. Si avvalevano principalmente di due fornitori spagnoli, Gerardo Olarte Alonso, di 53 anni, e Santiago Rodriguez González, di 45 anni, ex guardia civil. I due curavano l'introduzione in Italia della droga. Nello specifico, Rodriguez curava il trasporto della cocaina a bordo di autoveicoli appositamente adattati, sbarcando con il traghetto presso il porto di Palermo. Olarte Alonso, invece, precedeva il suo complice in aereo per verificare che gli arrivi presso il porto del capoluogo non vi fossero dispositivi di controllo ulteriori rispetto a quelli ordinariamente attuati dalle forze di polizia. I due, in occasione di un precedente sbarco di stupefacente effettuato a Palermo, erano stati arrestati dalle fiamme gialle posti agli arresti domiciliari. Per loro adesso il GIP ha disposto la custodia in carcere. Dalle investigazioni dei finanzieri sono poi emersi elementi di responsabilità a carico di ulteriori persone a vario titolo coinvolte nei traffici illeciti. Si tratta di Vincenzo Crimi, di 56 anni, e Antonello Cola, di 47 anni, anche loro condotti in carcere. Agli arresti anche Marisa Spatola, di 48 anni, moglie di Maniscalco, e Calogero Iginio Patti, di 46 anni, per i quali sono stati invece disposti gli arresti domiciliari. Nel corso delle indagini sono state complessivamente arrestate in flagranza a quattro persone, tre a Palermo e una ad Agrigento, e sequestrati oltre 6 kg di cocaina.